Hello and welcome back da Mami Mondo! Io sono Angelique e oggi vi faccio vedere e sentire in inglese la pronuncia corretta per fare, per preparare il tavolo di Natale insieme a vostri bimbi. In inglese we say we set the table oppure we lay the table. Prima di tutto vi faccio vedere tutte le cose che diamo a usare e come si chiamano. We have a table cloth. We have a placemat. We have a napkin. We have a dish oppure a plate. We have a deep dish. A deep dish oppure a soup dish. We have cutlery, that means a spoon, a big spoon, a dessert spoon, a fork and a knife. Then there is a water glass and a wine glass. Adesso possiamo fare il nostro Christmas table. Le case corrette da usare ogni volta sono queste. Can you put the table cloth? Can you put the placemat? Can you put the napkins? E così via. We are ready for our Christmas lunch or our Christmas dinner. Siamo pronti per il pranzo di Natale o per la cena di Natale. Merry Christmas! Bye!